E a noi ci hanno chiesto di fare un ultimo brano, in realtà non ne facciamo uno perché non possiamo sicuramente chiudere senza ricordarci che anche dalle nostre parti esistono, cioè nel nostro paese, qui a Cassino esistono dei brani che ci ricordano proprio la fine della guerra. Noi l'abbiamo raccolto a Caira, dove le signore di Caira, Maria Stella, Marietta e Zip Benedetta, giusto? Mentre ce lo cantavano piangevano, perché comunque loro si ricordavano semplicemente di tutte le persone che erano morte lì, tra Monte Caira e Monte Cassino e che per loro erano, se gli chiedevi quale divisa avevano, loro non lo sapevano, sicuramente però ci sapevano dire a modo loro, esso tutti figli da mamma, il più bel fiore della gioventù. Quando vado io firmo l'armestizio, i tedeschi se ne scapparono, e a Cassino si sono fermati per combattere e per morire. E a Cassino si sono fermati, per combattere e per morire. E le strade di Monte Cassino sono tutte piene di sangue, era il sangue degli stranieri, il più bel fiore della gioventù. Era il sangue degli stranieri, il più bel fiore della gioventù. Monte Cassino e Monte Caira, traditori della vita mia, ho lasciato la mamma mia per venire e per conquistare. Ho lasciato la mamma mia per venire e per conquistare. La pazia di Monte Cassino è stata tutta popparrata, e dramine, bombe e carronate, monastero non esistì più. E' stata fatta una battaglia col fiume e il fiore della gioventù. E' stata fatta una battaglia col fiume e il fiore della gioventù. E' stata fatta una battaglia col fiume e il fiore della gioventù. E' stata fatta una battaglia col fiume e il fiore della gioventù.